In Consiglio Comunale approdano le osservazioni al piano regolatore della città? Sì, siamo quasi alla fase finale di un ITER che ha visto il Consiglio impegnato con una serie di modifiche alle norme tecniche del piano regolatore. Nello specifico siamo andati incontro ai titolari di strutture quali i Capannoni che avranno la possibilità, soprattutto nelle aree artigianali e industriali, di adibire una parte della loro struttura, anche a servizi ed attività commerciali. Siamo andati incontro agli operatori turistici perché avranno la possibilità, per chi già non ne ha soffruito, di utilizzare una tantum in termini di cubatura per efficientare la propria struttura. Molti hanno bisogno di ulteriori camere oppure di spazi per attivare nuovi servizi. Così come l'ultimo Consiglio Comunale è stato importante perché abbiamo portato anche il regolamento che a breve verrà pubblicato per assegnare dei nuovi box che verranno installati tra qualche settimana nei pressi dell'area Druda che andranno a dare un'altra risposta importante agli operatori della piccola pesca. Finalmente avranno dei luoghi adatti a norma dal punto di vista sanitario per provvedere poi alla vendita del pescato nelle mattine. Quindi è stato un consiglio molto significativo, prossimamente ci torneremo con le osservazioni al piano De Magnale e poi andremo via via provando gli atti ufficiali.